Ehi, lo preferisci a metri o a chili? Normale o alla menta? Facciamo un centone. Troppo caro. Questi ultimi due omicidi hanno un movente ben preciso. Se riesco a trovare quello che mi ha raffinato, sai che scupa. Lascia perdere. Di lui niente, di te è tutto. Sei tu indisciplinato a novanta, vero? Gli uomini li guardano nelle parti basse. Ci vogliono argomenti più sostanziosi. Ti prego! Puzzi di alcol. Puzzi di alcol. Puzzi di alcol. Puzzi di alcol. Grazie a tutti